...vedete, intanto intanto qualche distrazione che potrebbe essere fatale. Ora la sponda di Tossela, Ciali, Ciali, destro, 3-3! Col di Ciali al 39esimo 30 secondi, non ha perdonato. ...grande assist me, Ciali, Ciali, cale di Elbe Merse. ...si prosegue, cambia tutto Victor, Mancini controlla, modo stato, praticamente dice che falla, Mancini, pallonetto, 3-3! È il 2-0, Mancini approfittando di un imperdonabile errore di modo stato. è il gol del 2 a 0 rivediamo il tocco di Moldestad cercava il portiere invece praticamente ha dato un pallone d'ora a Mancini che ha scavalcato è il Veneze con un 2